La parola di Dio di questa domenica è come attraversata da una parola che collega le diverse letture di questa liturgia, la parola tempio, parola immagine che poi arriva a toccare anche quelle costruzioni che poi sono le nostre chiese, il tutto accompagnato da un preciso richiamo alla vigilanza, al fine di comprendere bene cosa Gesù ci vuole dire parlando del tempio. Costruire un tempio stabile al Signore era stato il grande sogno del re Davide, poi il profeta Natal però lo aveva dissuaso e così il libro dei re ci descrive l'impresa attuata dal figlio Salomone, la costruzione cioè di un tempio bello, grande, suntuoso, gradito al Signore e almeno in ragione di quella nube che si diffonde nel tempio però ha un prezzo che fa un po' pensare, cioè si dice che i sacerdoti non poterono rimanere per compiere il servizio a causa della nube perché la gloria del Signore riempiva tutto il tempio del Signore, come se i sacerdoti fossero in quel contesto una sorta di ingombro, tanto che nell'epistola Paolo inviterà i corinzi a vigilare sul pericolo di confondere il tempio che è appunto Gesù con gli idoli. Quale accordo tra tempio di Dio e idoli? Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente, come Dio stesso ha detto abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dunque quale casa, quale tempio vuole abitare Dio? Più che i tempi che noi gli innalziamo sembra piuttosto prediligere la nostra compagnia. Abiterò in mezzo a loro e con loro camminerò. Viene alla mente un passo del dialogo tra Gesù e la Samaritana quando la donna dice beh vedo che tu sei un profeta, i nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, voi dite che invece è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare e Gesù le dice oh credimi donna è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il padre, è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità. Anche Gesù ha avuto un suo primo contatto col tempio per sé quando ancora bambino di pochi giorni venne presentato offerto al tempio e già lì fu l'inizio di un qualcosa di nuovo, di impensato, stando almeno al conto di Luca. Gesù stava semplicemente in braccio ad una giovane donna, Maria accompagnata dal marito Giuseppe che in mano teneva la sua povera offerta ma del rito dell'offerta Luca non ci dice praticamente nulla mentre ci racconta di un uomo senza qualifiche sacerdotali, Simeone, che mosso dallo Spirito Santo prende Gesù tra le sue braccia, benedicendo Dio e quello inoltre di Anna, un'anziana profetessa che appena si accorge che c'è Gesù bambino comincia a lodare Dio indicandolo come la salvezza nostra a tutti quelli che in quel momento stavano entrando nel tempio per fare i loro sacrifici. E così sono i Vangeli che ci fanno capire fino in fondo dove si fa tempio, dove il tempio del Signore esiste davvero, anzitutto là dove qualcuno semplicemente accoglie Gesù tra le sue braccia come Simeone o vedendo ha poi il coraggio di affermare chi è Gesù, come un po' un centurione romano che se l'ha trovato Gesù morto davanti e dice davvero costui era figlio di Dio, lì c'è qualcosa che ha a che fare col tempio ed è così che ancora oggi anche noi potremmo essere indotti a domandarci dove mai si trova il tempio del Signore in una meccanica successione di riti e di orari dove ancora un cuore batte o arde desiderandolo o magari abbracciandolo come quei due discepoli che la sera di Pasqua lo incontrano delusi lungo la via e dopo averlo ascoltato dicevano l'un l'altro non ci ardeva forse il cuore del petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava la scrittura ecco non è quello un momento di tempio dove si sta costruendo qualcosa per la presenza viva calda di Gesù ed ecco infine Gesù che decide lui di entrare nel tempio e si dice nel Vangelo di oggi che scacciò tutti quelli che nel tempio vendevano e compravano, rovesciò i tavoli dei cambiamonete alle sede dei ventitori di Colombo e disse loro sta scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera voi invece ne avete fatto un covo di ladri ecco tutto è così veloce che solo possiamo constatare come ci trovassimo davanti ad una dissacrazione anche se per sé dissacrazione è fare altro in uno spazio sacro in uno spazio dedicato a Dio farei altro e in questo senso il gesto di Gesù vuole essere anzitutto una profezia e quella indignazione gli viene da non avere trovato traccia del padre suo ma solo altro c'è mercato dove nascosti dietro il paravento della religione sono i soldi a dominare Gesù dunque decide di strappare di forza quella falsa copertura che spesso fa perdere dignità alle persone perdendo per strada l'immagine di Dio dunque è lì che Gesù insiste e importa allora che anche i nostri giorni le chiese non diventino case d'affari ma sempre più in modo trasparente si percepisca in esse la bellezza gratuita della salvezza che Gesù ci ha regalato morendo per amore cioè gratuitamente e nel frattempo ecco che in quel tempio sconsacrato appunto sconsacrato dal mercimonio scatta quello che era inatteso e si avvicinarono nel tempio ciechi e zoppi e storpi ed egli li guarì e gli scrivi che stavano assistendo a quella scena sentendo voci di fanciulli cantare osanna al figlio di Davide si sdegnano e protestano si indignano ma Gesù risponde loro sì ma 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 non avete mai letto dalla bocca dei bambini dei lattanti hai tratto per te una lode quando dunque si dà tempio quando dunque si fa tempio per il nostro Dio quando abbiamo cuore aperto come il cuore dei bambini e degli esclusi trovano casa ecco lì si fa tempio e dunque sia così così sia buona domenica a tutti